Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video Oggi ragazzi siamo con un video un pochettino diverso Perché ieri cercando le informazioni su delle spedizioni Mi sono imbattuto in un sito ragazzi molto molto particolare Che vende merda Ragazzi voi potete regalare merda a qualcuno in maniera anonima Questo sito ragazzi non avevo mai visto una roba del genere Il sito è anche ben fatto Andiamo a dare uno sguardo Un modo semplice di spedire una merda in un pacco ragazzi Vi fa dare la merda e vi fa dare il pacco vino di merda Figo ci sono anche le immagini interattive Immagino una persona che odi davvero tanto Ci deve essere sempre qualcuno che non ti piace Abbiamo detto quel vaffanculo Bellissimo E se fosse possibile mandare un pacco con una sorpresa puzzolente Non c'è niente che potrebbe sostituire l'espressione sul volto ragazzi Oh shit Del destinatario dopo aver aperto una scatola con una merda dentro Effettivamente l'idea ci sta tutto Bellissimo perché c'è la descrizione Ragazzi la descrizione Scegli un animale Vari animali hanno diversi tipi di escrementi Diversi colori, odori e consistenze Quindi voi potete anche scegliere il tipo di animale dal quale verrà presa poi la cacca Due Dacci un indirizzo Spediamo i nostri pacchi con metodi tradizionali e consegne direttamente al destinatario Scegli come incartare il tuo pacco Giustamente un semplice tradizionale anonimo pacco O magari una confezione elegante Poi puoi usare Paypal o Bitcoin se vuoi rimanere più anonimo o qualunque altro metodo di pagamento Se vi chiedete quanto costa questa cacca Costa 16 dollari e 95 12 euro e 95 O 5 centesimi di Bitcoin E la spedizione è gratuita in tutto il mondo Praticamente loro diciamo che di 12 euro ne usano 8-9 per spedire il pacchetto di cacca E la differenza se la tengono nel loro guadagno Poi ovviamente si può ordinare Voi potete mandare questa cacca a chi volete Ci sono sotto una serie di simboli di loghi non cliccabili Che ovviamente saranno qui per tipo tag E insomma questo sito molto particolare vi permette di spedire cacca a qualcuno Ve lo volevo far vedere ragazzi Perché potrebbe essere utile a chiunque Soprattutto adesso se qualcuno riceverà della cacca che mi conosce Saprà sicuramente che sono stato io a mandarli Anche perché a 12 euro e 95 Penso sia uno sfregio Innocente Da una parte comunque innocuo E dall'altra che Concentra in sé un bel simbolismo Se così vogliamo dire Sarebbe simpatico e qui non se ne parla Se fosse possibile Prendere questo servizio in abbonamento Perché per esempio se io odio tanto una persona Vorrei che Queste spedizioni fossero costanti E non vorrei tornare sempre sul sito Quindi magari che ne so Una spedizione ogni 15 giorni Come un abbonamento mensile o annuale Penso Sarebbe anche un'idea carina da fare Perché Giuro se avessi soldi Un paio di cacche Saprei a chi spedirle Detto questo ragazzi Lasciate un bel like a questo video Se vi piacciono questi video un pochettino diversi Che non sono solamente di gameplay Lasciatemi anche un commento Fatemi sapere che cosa ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video A presto 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 A presto